Tre punti per continuare a sperare nei play-off. Era questo l'obiettivo del Capistrello. E alla fine la vittoria è arrivata, seppure con qualche sofferenza per via del forcing finale del Cupello, che una volta trovato il gol del 2-1 al 35esimo, si è riversato nella metà campo dei Marsicani alla ricerca del pareggio. Ma il Capistrello ha meritato il successo, maturato soprattutto nel corso del primo tempo. Si inizia con un fallo di Pollino a metà campo su basso, che vede la reazione esagerata del numero 10 ospite, al quale l'arbitro risparmia un giallo sacrosanto. Poi all'undicesimo il Capistrello passa in vantaggio. L'errore in uscita è dell'esperto Giuliano, che di testa serve ad Aquino un assist che l'attaccante di casa non spreca. Pallonetto sull'uscita di Micale e Sfera che si insacca sotto l'incrocio più lontano. Poco dopo però Aquino si fa male ed è costretto ad uscire, rimpiazzato da Daniele Fantauzzi. Intanto il Cupello continua a commettere errori su errori e al quindicesimo, su ripartenza rovetana, Pollino avanza e in area cede a Panecasio, che a sua volta offre a Guerra la conclusione tutto sommato facile, ma la punta mette a lato a fil di palo tra lo sconforto dei suoi tifosi. Passano altri cinque minuti e il Capistrello raddoppia. L'azione si sviluppa sulla destra e sul tentativo di cross, Giuliano tocca con un braccio e l'arbitro non ha dubbi nell'assegnare il calcio di rigore. Inutili le proteste del difensore e dagli 11 metri Guerra è freddo nell'esecuzione, spiazzando Micale. A questo punto il Cupello si sveglia e ci vuole un intervento determinante di Mario Di Girolamo su Perrella per evitare il peggio. Ci prova anche Ninte, ma senza esito. Passano altri tre minuti e c'è ancora lavoro per Di Girolamo che deve intervenire per sbrogliare una situazione che si era fatta preoccupante. E per chiudere la prima frazione vi mostriamo l'azione che ha fatto imbestialire quelli del Capistrello, quando il direttore di gara non vede un fallo in area ospite che a detta dei rovetani avrebbe meritato la massima punizione. Noi vi mostriamo le azioni così come le abbiamo. E passiamo alla ripresa. Parte forte il Cupello e al secondo Ninte riceve sulla destra e spara alto dall'interno dell'area. Al quattordicesimo rispondono i padroni di casa con questo cross basso di Giacomo Fantauzzi che mette in difficoltà la difesa avversaria, che però in qualche modo riesce a cavarsela. Ventisettesimo Marinelli alza troppo la mira da 7-8 metri, sprecando l'opportunità che gli era arrivata dalla fascia sinistra. Passa un solo minuto e il Capistrello potrebbe chiudere il discorso, ma Daniele Fantauzzi riesce a mandare fuori questo pallone che chiedeva solo di essere spinto in fondo al sacco, suscitando le irie dei tifosi in tribuna e lo sconforto dei compagni sul campo. Passiamo alla mezz'ora, percussione di guerra che in area termina a terra, ma l'arbitro lascia proseguire tra le proteste. Trentatresimo azione sulla sinistra del Cupello, la difesa locale respinge male, ma Marinelli non fa meglio di Fantauzzi e quasi per solidarietà col collega avversario alza incredibilmente dal limite dell'area piccola. 60 secondi dopo il Cupello riapre i giochi. Accade che, su un'azione ficcante sulla destra, Antonelli vada a contrastare dei cinque in maniera che l'arbitro giudica scorretta. C'è quindi il calcio di rigore anche per gli ospiti, con Marinelli che spiazza di Girolamo e accorcia le distanze. Al termine mancano ancora dieci minuti e il Cupello prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma il Capistrello serra le file e porta a casa una vittoria che lascia inalterate le speranze di play-off dei rovetani. Dopo partita con Fabio Eodici, avete rischiato alla fine di pareggiare? Insomma, sarebbe stata quasi una beffa per voi? Credo di sì, perché la partita abbiamo creato 6-7 palle e gol, quindi la dovevamo chiudere prima, sia nel primo tempo sia nel secondo tempo, soprattutto abbiamo avuto 3-4 ripartenze dove è mancato solo il gol, quindi poi è chiaro che alla fine un po' di tensione sul rigore loro, un po' dubbio, il nostro, a noi uno, penso, non lo so, non c'ho parole, però vabbè. Dalla tribuna sembrava rigore. No, vabbè, ma l'ha detto pure il guardia linea a noi vicino alla panchina che era rigore, l'hanno detto pure loro, i avversari, quindi, però vabbè, ci sta, però ringrazio i ragazzi perché è stata una settimana un po' particolare, dopo la sconvitta della Miterlina stavano un po' giù, però hanno reagito bene, con solo che abbiamo parecchi problemi perché Aguino si è allenato venerdì e sabato, guerra venerdì e sabato, venditti con la febbre, Aguino l'abbiamo perso dopo dieci minuti. A proposito, l'infortunio com'è, grave? Ha fatto l'ecografia giovedì, non ci stava niente, però vediamo in settimana quello che è, però per noi è una grossa perdita perché perdere uno in Orlando dopo dieci minuti non è facile, però le ragazze hanno fatto bene, Daniele ha entrato, Fantauzzi ha fatto bene, sto contento per lui, è mancato solo il gol, va bene, noi vediamo partita per partita e vediamo fino alla fine, mancano cinque partite per noi, sono cinque finali, vediamo quello che succede. Comunque i playoff stanno lì a portata di mano? Sì, stiamo a tre punti, è chiaro abbiamo un calendario difficile, domenica abbiamo un scontro diretto con l'Alba Triatica, poi abbiamo la Torresi in casa, abbiamo Paterno, quindi sappiamo che il calendario è difficile, però noi ci proviamo fino alla fine. Gli arriva anche Panfilo Carlucci, alla fine insomma ci avevate fatto un pensierino al Parigi, almeno al Parigi. No vabbè, c'è stato un approccio negativo alla partita, i primi 20 minuti non siamo proprio scesi in campo e loro di conseguenza ci hanno fatto due gol, quindi poi c'è stata una reazione, come è giusto che sia, una squadra che sta perdendo e fino alla fine ci abbiamo provato, però non possiamo regalare a una squadra come il Capistrello i primi 20 minuti, ecco ti fanno due gol e poi ti mandano a casa, voglia approvarci in tutti i modi. Avete ballato con gli uomini più esperti, soprattutto quei primi 20 minuti? Eh vabbè, purtroppo può capitare a tutti, ecco quindi per noi non cambia nulla, dobbiamo andare avanti e pensare ancora che dobbiamo fare ancora altri tre punti per la salvezza, soprattutto oggi con i risultati che ci sono stati. I cambi, sono stati quelli asseccati, quelli giusti? Se vediamo i primi 20 minuti possiamo pensare che è stata sbagliata la formazione, però qua è una questione di approccio mentale, ecco, si pensava di venire qua a fare una passeggiata ma non esiste da nessuna parte, questo è l'unico rimprovero che do alla mia squadra, tutta la settimana sarà una partita difficile, un ambiente difficile soprattutto con una squadra che veniva da una sconfitta e si sa che quando le squadre vengono da una sconfitta sono molto più arrabbiata, ecco. Un campionato che sembrava chiuso invece pare che sia tornato tutto in discussione, Chiedi si dice che abbia perso. Eh sì, e di conseguenza hanno accorciato anche dietro perché mi sembra che l'Acqua e Sapone vincendo a Chiedi abbia accorciato a 36, adesso addirittura il Ponte Momano a 35, la quinta ultima e il Sambuceto è a 6 punti dal Chiedi, quindi nelle ultime 5 ci sta tanto da vedere, ecco. Quindi tutto sommato un bel campionato? Sì, sì, è un bel campionato, però per chi ci sta dentro è molto sofferente come tutti gli anni, ecco. Meuccio Di Santo, direttore sportivo del Capistrello, direttore generale del Capistrello, diceva il mister che è stata una settimana particolare, cioè che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire perché domenica scorsa la squadra non ha risposto alle sue idee, abbiamo perso, ma con rispetto della miternina, però ci tenevamo questa settimana a tutta la società compreso me, tutti i ragazzi ci siamo guardati intorno e c'era un solo obiettivo per poter provare ai play-off la vittoria, anche se dobbiamo ringraziare i ragazzi perché ci hanno regalato già la salvezza che la società ha chiesto a questi magnifici ragazzi la salvezza. devo fare un elogio al mister, al direttore sportivo, a tutta la società, veramente ai collaboratori, oggi è stata una risposta veramente a tutti i ragazzi, hanno giocato, hanno dato tanto e hanno onorato questa maglia perché se andiamo nei play-off il merito è del mister, del direttore, dei ragazzi che... di tutta la squadra, dai Mauccio, senti il rigore che avete reclamato, vi ha fatto arrabbiare un bel po'? Eh sì, ma quando un rigore è netto, l'albitro è stata una svista, pazienza, ultimamente succede sempre a noi, però l'importante era vincere, come sbaglia un giocatore può sbagliare anche l'albitro, certo, sul 2-0 avrebbe dato il rigore, l'avremmo realizzato, 3-0 la partita era chiusa, alla fine un po' di paura l'abbiamo avuto, l'importante questi tre pronti che lo dedichiamo a noi stessi, la squadra, la società, i tifosi, a tutto l'ambiente con la speranza che andiamo nei play-off.